Sono una congolesa, siamo in Kinshasa, abbiamo la missione lì, abbiamo due comunità lì in Kinshasa. Adesso siamo qua in Italia, a Roma abbiamo cominciato a fare questa formazione permanente e nei livelli di approfondimento dei contenuti sulla formazione umana, cristiana e giannellina e adesso siamo venuti qua nel luogo Giannellina, a Ceretta, per approfondire, proprio ritornare nel sorgente della nostra spiritualità e toccando la terra del nostro fondatore per godere ancora di più questa carisma e spiritualità delle figlie di Maria. Grazie. Sono indiana, sono Elisabetta Mananciri Kalail, adesso siamo venuti in formazione permanente qui. Si lavora in India, però noi siamo prima delle cinque sore che sono andate in India a lavorare, io sono una delle prime. Abbiamo in comunità, in tutte, abbiamo undici comunità che lavorano proprio nell'interno villaggio, i lavori che loro hanno l'educazione e le assistenti sociali. Noi abbiamo nella nostra scuola dove sono, poi gli altri sono lì di assistenti sociali e dispensari pure. Nel villaggio ci sono tante le gente che non ci sono in ospedale, allora vengono da noi come un dispensario che si lavora là. Poi anche nel villaggio che loro, i bambini e i bambini che non vanno in scuola, noi diamo un'educazione privata, primaria. Poi anche gli assistenti sociali che loro vengono così, moribonde pure, noi assistiamo per il pronto soccorso anche con la medicina della privata. Poi noi andiamo a bambini che sono trascurati nel vagabond, perché abbiamo cominciato un'altra comunità. Ci sono quundici bambini che girano così nella stazione, così nelle strade, allora facciamo questa assistenza sociale di lavoro. Poi c'è anche una formazione per la sore, cerchiamo di venire gli aspiranti, noi abbiamo una formazione per la sore, anche c'è un centro, abbiamo una formazione per la sore, per la sore, che vengono varie tappe, sono i nuovi sciati, i busilanti, poi sono le giù, sono le giù, sono le giù e le giù, poi vengono le otti perpetti, vengono mette le sore nel servizio di diverse comunità di questo tipo di scuola di assistenza sociale.